Ciao a tutti raga! Allora oggi stiamo qui con voi per farvi vedere il nostro shopping che abbiamo fatto di sfarno casa Vi apriamo subito la pusta e vi facciamo vedere un po' i nostri acquisti Allora, per prima cosa abbiamo preso due pacchi di bicchieri di plastica Guardate, da 200 cc, questi pagati 1,99 Sono, l'interno dovrebbero essere, adesso guardiamo insieme perché magari forse l'ho visto già ma non mi ricordo Comunque abbiamo preso due pacchi raga, guardate Poi per me ho preso queste strisce depilatorie della strep Professional Guardate, guarda, sono fatti così Si applicano, allora si scaldano Poi si aprono Per la ceretta? Sì, per la ceretta Ma vanno fatte così Ma per lei, ma tu mica ne hai bisogno Sì, sì Guardate, vi spiega tutto Quindi che puoi fare al mio comando? Questi pagati 4,99 euro Raga, poi più o meno vi dico i prezzi che mi ricordo Perché comunque sono un po' di robine e non ce l'ho tutti presenti Vediamo insieme, guardiamo insieme se mi ricordo Questo spazzolino che Kevin ha voluto prendere per lui l'abbiamo pagato 1,59 E dell'acqua fresh L'ha preso anche azzurra E questo è della Silver Care Fatto così Spazzolino Poi io ho venuto prendere per me Questa tazza E questo bicchiere Che adesso vi faccio vedere prima la tazza Fucsia Fucsia viola Perché comunque non c'era una rosa Allora il mio secondo colore preferito è il fucsia viola Un po' particolare E queste sono fatte, raga, di vetro E erano molto belle Allora ho deciso di prenderla Mi hanno colpito E questa se non sbaglio è pagata 1,99 Questo bicchiere Idem Come la tazza Vetro Stessa marca Ok Cerve Ok cerve Il cervo Il cervo E Questo raga non mi ricordo quanto l'ho pagato Forse l'avevo pagato sempre 1,99 Chi ha detto come è questo? Poi ho preso Questo Organizer da scrivania Rosa Che io non lo userò per la scrivania Ma lo metterò Nella mia postazione make-up È tutto rosa Ce n'era raga solo uno Io speravo ce ne fossero di più Ma ne ho trovato solo uno E l'ho preso Comunque questo pagato 1,99 È molto spazioso Tanti comunque scomparti Il primo che è lungo E grande comunque Qua c'è uno a cerchio Poi uno rettangolare più piccolo E l'altro In verticale Comunque anche esso grande Molto bello Molto bello Allora Poi ho comprato Queste salvecine Dovrebbero essere Ho visto 62 Detergenti Idratanti Con aloe vera E olio di mandorla Senza alcol Guardate Senza alcol Formula con pH neutro Qui C'è scritto qui E io Le ho prese Per il piccolino Per il piccolino Che mi porta ancora Il pallolino Poi Kevin In vista del mare Si è fissato Di questo set Di palette Raschiello Palettina E fornine Per la tabbia E Niente Le abbiamo prese Perché È andato In fissa E quindi Per non farlo piangere Le abbiamo prese Comunque Non è passato Neanche tanto 1 euro e 99 Mi ricordo Perché Si è letteralmente Esaurito Si Fissato Di questo set Allora Niente Ho detto Vabbè Vabbè Premiamolo Poi Allora Per La doccia La pasta Come volete Per il bagno Comunque Avevo Abbiamo preso Cioè Io ho preso Questo Vival Sensual Touch Che è Buonissimo Raga Camellia E ambra E L'ho già provato Quindi già so Che è buono Questo Pagato 99 centesimi Poi Poi Questo E' un shampoo 750 ml Della Luxury Guardate Al muschio bianco Tonificante Pagato E' un shampoo? No E' un bagno stuola Ok Pagato 99 centesimi Poi Visto che siamo in fissa Con i listerni Noi Perché dopo i denti Dobbiamo passare sempre Il colluttorio E quale colluttorio Se no i listerni Allora Abbiamo preso Anch'esso Da risparmio casa Perché comunque Il prezzo è sempre ottimo Questo E' da 600 ml Pagato 2 euro E 99 Noi lo usiamo Veramente tantissimo Quindi Ogni volta Ci conviene Prenderlo Lui Non dimenticando Questo qui Che abbiamo preso Vicino Gli spazzolini Che hanno preso Il Mentadent Dentrifricio Prevenzione carie Dei pokemon Quanto L'abbiamo pagato Questo Perché io Non l'ho visto Proprio 7 euro No E' impossibile Amore Non ti prezzo No Questo è Dei 7 anni in più Quindi Pevino Lo puoi usare Lo puoi usare Tu Questo Abbiamo visto Sullo scontrino L'abbiamo pagato 1 euro 88 Comunque 75 mm Guardate Qui 75 mm Della mentadent Dei pokemon I Cotton Fless Cotton Fjok Bassoncini Cotonati 100% Cotone Nuova formula Soffice E delicata Questo Sono 100 pezzi E le abbiamo pagato 99 centesimi Abbiamo ripreso Questo shampoo Perché la volta scorsa Se andate a vedere I video che abbiamo Già fatto Di Sparino Casa Abbiamo preso Questo Non costava Tantissimo 5,99 E però La cosa figa Raga È che è un litro Quindi l'abbiamo voluto Riprendere Perché comunque I capelli Vengono ottimi E a noi ci piace Tantissimo E in tutto Raga Abbiamo speso 33,70 Niente Il nostro shopping Da Risparmio Casa È finito Noi vi ringraziamo Di averci guardato Se non siete iscritti Al canale Iscrivetevi Se vi è piaciuto il video Lasciate un like E noi come sempre Ci vediamo al prossimo video Però mi raccomando Attivate la campanella Così sarete sempre aggiornati Sui nostri video Ciao ragazzi